un saluto da vitali immobiliare oggi mi trovo dentro spiaggia 23 un centro sportivo polifunzionale con un noto ristorante e pizzeria alle mie spalle quello che ti propongo è un ambiente di oltre 40 metri quadri ideale per iniziare la tua nuova attività che grazie a questa potenzialità e visibilità non potrà che andare ad aumentare i tuoi introiti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti